Nella giornata internazionale degli infermieri ho incontrato gli ordini delle professioni infermieristiche di Pavia, di Carbonia Iglesias e di Salerno, insieme con i ragazzi di Anfas di Pavia. Mi hanno consegnato questo codice deontologico infermieristico che è stato redatto proprio dai ragazzi di Anfas in un formato più leggibile e più comprensibile, comprensibile a tutti, anche alle persone con disabilità intellettiva. È un bellissimo segnale di vicinanza alle persone, ma non solo. E questo è un grande segnale che viene anche dagli infermieri, infermieri che hanno dimostrato di essere ancora una volta vicini alle persone vulnerabili, alle persone anche con difficoltà, hanno dimostrato ancora una volta una grandissima umanità ed una professionalità. Veramente un buon lavoro a tutti.